Mi chiamo Valerio. Mi chiamo Franco. Dejanira Marzano. Otto giorni di prove, tre biglietti per l'Honduras, ma un solo vincitore. Credo di poter dare molto a questo programma. Voglio essere leader e portare avanti i miei pensieri. Sono la persona giusta per fare questa isola. Catapultati nella selvaggia giungla maremmana, dieci aspiranti isolani scelti tra esperti del web, neofiti digitali, fenomeni virali, dovranno superare un'imprendibile sfida per realizzare il loro sogno. Partecipare all'Isola dei Famosi. Spero che non ci sia una deficiente, perché a me la deficiente mi irrita. Tu hai l'alito di uno di 70 anni. Noi siamo abituati a fare le guerre sul ring. Fuori dal ring siamo delle persone dolcissime. Non fai niente. Non so non fare un c***o le donne e non vogliono fare un c***o. Posso sembrare agli occhi delle persone un po' saccente. Io ho detto che forse succedeva qualcosa. Vai a fare il c***o. Previ ragazzi. Tre di loro si giocano un posto all'Isola dei Famosi.